Carasco a lavoro per la sicurezza degli argini fluviali. Terminato l'intervento sullo Sturla, si lavora per rinforzare la scogliera in zona Rivarola. Prima dell'inverno prevista anche una pulizia degli argini. Sono stati finanziati i lavori per la riqualificazione energetica del plesso scolastico di Via Lombardia a Sestri Levante, fra le novità al pavimento che trasforma l'energia cinetica in energia elettrica. La regione attende da Trenitalia le spiegazioni circa ai disagi del 16 agosto, quando 23 treni sono stati cancellati in un'unica mattinata, incontro previsto entro la metà di settembre. Quasi 200 pellegrini a Roma per l'annuale appuntamento dedicato ai cresimati. Rinnoveranno la propria fede sulle tombe degli apostoli, due i momenti di ascolto previsti nelle serate. Le modifiche alla viabilità per Virtus Entella Livorno di sabato sera, una novità nelle disposizioni della Polizia Municipale rispetto agli anni precedenti. Buongiorno a tutti e ben ritrovati con la nostra informazione. Il Comune di Carasco è a lavoro per incrementare la sicurezza dei propri argini fluviali, con interventi di rinforzo in alcune zone considerate particolarmente critiche. L'intenzione è quella di prevenire per quanto possibile l'impatto di possibili calamità naturali. Vediamo. Interventi mirati per ridurre al minimo il rischio idrogeologico. Carasco si prepara così alla stagione invernale con lavori di rinforzo degli argini fluviali. A giugno erano iniziati quelli sulla sponda sinistra, guardando verso il mare del torrente Sturla, nei pressi del nuovo ponte, finanziati con un milione di euro dalla protezione civile. E' stato terminati i lavori mettendo dei massi enormi, cementificati come ci ha chiesto e ci ha dettato il piano di bacino e siamo andati a chiudere la finestra in località Pian di Rocco dove ci sono delle fabbriche. Era quella che aveva creato la criticità nell'alluvione del 2014. Altro intervento di rinforzo in zona di Varola, sulla scogliera che contiene Lentella, dove i lavori sono stati interrotti per lo status di sito di interesse comunitario in virtù della fauna ittica presente nel torrente. Abbiamo iniziato a rimettere a posto la scogliera che si era ammalorata nel 2011 con delle risorse dell'accisa della benzina. La regione Liguria ci ha stanziato 280 mila euro, ce ne mancano ancora 220 per finire l'opera. Abbiamo fatto il primo lotto, ora dovremo terminarlo perché siamo stati obbligati a sospendere in quanto lì essendo zona sic per salvaguardare la fauna ittica e speriamo di riprenderlo qua a settembre prima che inizi la stagione delle piogge. L'ufficio tecnico del Comune ha anche fatto una richiesta alla regione di 100 mila euro da utilizzare per la pulizia degli argini. Abbiamo constatato che ci sono tanti arbusti e tante piante che stanno rendendo difficile il diflusso delle acque. È un lavoro importante e urgente da fare perché si sta avvicinando l'inverno e abbiamo paura che succedano di nuovo gli eventi che si erano verificati nel 2014. Noi purtroppo siamo un comune che siamo in confluenza con tre torrenti, Sturla, Gravelia e Lavagna che poi diventa Lentella e abbiamo visto che ci sono un grande piante che stanno creando delle criticità. Un sistema di ventilazione naturale, un tetto verde ed un pavimento che trasforma l'energia cinetica in energia elettrica. Sono alcune fra le più curiose novità in vista per la riqualificazione energetica della scuola di via Lombardia a Sestri Levante. Un progetto ambizioso che sarà avviato il prossimo anno perché ormai l'inizio delle elezioni è imminente ma che a conti fatti permetterà di risparmiare il 75% dell'anidride carbonica emessa nell'atmosfera e un abbattimento quasi definitivo del metano necessario alla climatizzazione dell'edificio. I lavori sono resi possibili grazie ad un contributo di oltre 520 mila euro che il comune di Sestri Levante ha ottenuto con il progetto presentato lo scorso anno per una spesa totale di circa 770 mila euro. I lavori inizieranno nell'estate del 2020 proseguendo eventualmente nell'autunno nelle sole parti non necessarie allo svolgimento della normale attività scolastica. I lavori si integrano con il progetto di riqualificazione della palestra di via Lombardia che prevede la costruzione di nuovi locali per il pubblico con servizi igienici e tribuna in modo da poter omologare gli impianti alle norme coni. In questo caso i lavori sono stati finanziati per un importo superiore ai 900 mila euro. Gli incontri fra Regione, Trenitalia e le associazioni dei consumatori, in particolare che si occupano di rappresentare i pendolari, sono una cosa all'ordine del giorno che si svolge in maniera regolare. Ma alla luce dei disservizi del prossimo 16 di agosto, quando 23 treni sono stati soppressi nell'arco di un'unica mattinata, il prossimo appuntamento che sarà convocato entro la metà di settembre assume una valenza decisamente maggiore. Ne abbiamo parlato con l'assessore regionale ai trasporti Gianni Berrino. È stata come una tempesta perfetta quella delle 16 di agosto, però è stato un episodio unico perché in oltre 4 anni e passa che sono assessore ai trasporti, mai si era successa una vicenda di questa portata e dal pomeriggio e dal stesso giorno però si è tutto normalizzato e quindi il fatto rimane grave, è chiaro però lo dobbiamo circoscrivere ad una mattina. Anche tenendo in considerazione che la Regione di Curia è una delle regioni con la più bassa percentuale di cancellazioni, questo anche perché monitoriamo costantemente il servizio, che il nostro discutere con Trenitalia è all'ordine del giorno. Ciò non toglie che è un fatto che non doveva capitare, che ha caduto ed è molto grave, per cui ci siamo subito attivati con un confronto serrato con Trenitalia, la quale ci dovrà dire che cosa è successo. Ho già anche anticipato, anche prescritto a Trenitalia che un altro episodio di questo genere potrebbe portare ad una valutazione se rescindere o non il contratto perché è una mancanza contrattuale molto grave. Poi è chiaro che nessuno vuole lasciare la Regione di Curia senza trasporto ferroviario, però è anche chiaro che Trenitalia non può approfittarsi di questa situazione per non mettere in atto iniziative volte alla riorganizzazione del suo personale, quindi per far sì che episodi di questo genere non avvengano più in futuro perché sarebbero intollerabili. Le associazioni dei consumatori chiedono l'apertura di un tavolo di confronto, avete in programma iniziative di questo genere? Un tavolo di confronto con le associazioni, ad esempio con i comitati dei pendolari esiste dal 2016, è stato da me voluto proprio per capire le loro esigenze, per spiegare, per trasferire a Trenitalia le loro richieste perché laddove possibile sono sempre anche state accettate. Quando la prima cosa che faremo è avere un incontro con Trenitalia entro i primi 15 giorni di settembre, per poi incontrare naturalmente da una parte i sindacati e dall'altra parte le associazioni dei consumatori per verificare e per trasferire loro le spiegazioni che ci sono state date. Noi applichiamo il contratto che prevede che oltre un 8% di di servizio scatti anche in borsa, ma ripeto essendo stato un episodio unico dobbiamo capire col nostro ufficio come incide questo sul contratto, nonostante 23 treni cancellati nella mattina siano una cosa gravissima. L'ufficio scolastico regionale ha pubblicato le nomine dei nuovi presidi, molte riguardano gli istituti comprensivi del nostro territorio. Donatella Arena Rapallese, oggi collaboratrice del dirigente scolastico Giacomo Daneri all'istituto comprensivo di Rapallo, diventa dirigente all'istituto comprensivo di Sestri Levante. A Sestri era reggente Luigina Fernanda Paola Cerrina, titolare al comprensivo Chiavari 1 della Torre. Anche nel caso di Chiavari comunque Cerrina lascia al posto ad una nuova nomina, quella di Manuela Carli. Finisce la reggenza di Sara Bandini, anche al comprensivo De Andrè di Casarza Ligure dove arriverà Caterina Balli. All'istituto comprensivo Valli e Carasco viene assegnata Felicità Foglia. Francesco Codebò va in pensione, a Lavagna è stata nominata Valentina dell'Aquila. All'istituto comprensivo di Cogorno torna preside di ruolo Francesca Vetrugno. Dirigente del comprensivo di Cicagna è stata nominata Anna Grimaldi da Salerno. I nuovi nominati entreranno in servizio il primo di settembre. Lunedì partiranno per Roma 195 pellegrini della diocesi di Chiavari. Si tratta di cresimati e cresimandi delle parrocchie del territorio che saranno accompagnati dai sacerdoti e dagli educatori che li hanno guidati nel loro cammino di fede. Il programma di questo pellegrinaggio, giunto alla sua sesta edizione, ricalca quello degli scorsi anni. Il lunedì la celebrazione nella Basilica di San Paolo fuori le mura. Il martedì la professione di fede sulla tomba dell'Apostolo Pietro. Il mercoledì la partecipazione all'udienza generale con Papa Francesco. Il significato è indubbiamente il fondare la nostra fede sulla roccia di Pietro e sulla passione per l'annuncio del Vangelo dell'Apostolo Paolo. Perché la nostra fede non è una fede astratta ma una fede che è fondata su Cristo e che è portata a noi grazie a dei testimoni come appunto gli Apostoli e tra questi Pietro e Paolo. E ricordarci che dopo Pietro c'è stata una storia che è arrivata sino a noi e a Papa Francesco, lui custode del grece del Signore, custode della nostra fede e andiamo a trovare lui che come Gesù ha detto a Pietro e noi lo chiediamo ora al suo successore, possa confermarci appunto nella nostra fede. Quanti sarete? Saremo 195, che è un numero molto alto. Siamo alla sesta edizione di questo momento che è nato forse un po' così in sordina ma che negli ultimi anni, come dice anche due anni fa, l'evento eccezionale dell'udienza privata che ha concesso il Papa ai giovani di allora ha visto un aumento esponenziale e 195 è un numero bello, un numero che fa riflettere su quanto comunque questo pellegrinaggio che non è una cosa scontata, un po' anche se vogliamo diverso rispetto alle esperienze dei campi, però comunque un evento atteso e che suscita interesse nei ragazzi ma anche negli educatori, nei sacerdoti che lo propongono a loro. Nelle due sere che trascorrerete a Roma due appuntamenti con altrettanti ascolti. Sì, la prima sera incontreremo Federica Ancona che è una ragazza ed è stata uditrice all'ultimo sinodo dei Vescovi proprio sui giovani e porterà la sua testimonianza di quello che è stata un'assise, una riunione dei Vescovi che hanno proprio parlato dei giovani, quindi l'attenzione della Chiesa sui giovani portata a quelli che adesso inizieranno il percorso proprio dei giovani, quindi è poi rivolto a loro. Mentre la seconda sera incontreremo Arturo Mariani che è un ragazzo che è nato senza una gamba, attraverso lo sport non si è dato per vinto e lui è un campione di calcio della Nazionale Amputati, come dire che anche se a volte ci sono dei difetti fisici, questo però non vuol dire che allora la vita ha meno valore, la vita ha meno bellezza. L'intervista integrale a Don Matteo Prettico con tutti i dettagli sul pellegrinaggio che sta per iniziare sarà proposta questa sera alle 21.10 nell'ambito della nostra rubrica di cronaca diocesana Noi Chiesa che si aprirà con una lunga pagina dedicata al ricordo di Monsignor Nicola Tiscornia. La parrocchia di San Bartolomeo della Ginestra celebra la festa del titolare, domani mattina alle 11 la Santa Messa sarà preseduta dal vescovo Alberto Tanasini. Festa di San Bartolomeo anche nella parrocchia di Statale Anè, domenica la Santa Messa sarà celebrata alle 11, nel pomeriggio alle 17 la processione con l'arca del santo e del crocifisso. Lunedì 26 agosto alle 18 la Santa Messa in suffragio dei defunti del paese sarà celebrata nella cappella del cimitero. Il comitato festa della primavera di Santa Margherita Ligure organizza una serata di solidarietà a sostegno della parrocchia di San Siro per le spese sostenute per la realizzazione dell'ampliamento e della ristrutturazione delle opere parrocchiali. L'appuntamento è per domani sera alle 19.30 in piazza San Siro. Dopo cena ballo liscio in piazza. Sabato sera alle 21 la Virtus Entella ospita il Livorno nello stadio comunale di Via Gastaldi a Chiavari per la prima giornata del campionato di calcio di Serie B. Come ogni anno le partite casalinghe dei Bianco Celesti comportano alcune modifiche alla sosta e al transito nelle zone adiacenti allo stadio. La sistemazione dei divieti è praticamente la stessa dell'anno scorso. C'è una piccola variante che tutti i divieti scattano da 5 ore prima dell'evento sportivo. Questo per evitare confusione. Prima erano da 4 o da 5 ore prima. Quest'anno non ci saranno le partite dell'Albisola quindi è un po' più facile per i cittadini seguire e non sbagliarsi. Ricordo che c'è la baccheca dell'Entella. Prossimamente metteremo anche un pannello a messaggio variabile. Comunque c'è la baccheca dell'Entella in Corso Gastaldi dove ci sono sempre indicate le prossime partite e tranne le amichevoli saranno solo quelle di calendario dell'Entella. Ricordiamo quali sono i divieti nello specifico? I divieti sono divieti di sosta che riguardano il piazzale a Monte del Campo, Corso Gastaldi, Corso Lavagna, Via Damiano Chiesa e Via Le Casban. Le partite hanno un'opzione A e un'opzione B. Quando le tifoserie sono numerose viene attivato su indicazione dell'autorità di pubblica sicurezza, viene praticamente chiuso una careggiata di Via Le Casban utilizzata per la sosta, messa a doppio senso l'altra, ma questo sarà solo per le partite più impegnative con tifoserie più numerose. YLab e Top X, consorzio senza fini di lucro costituito nel 2002 che supporta progetti di innovazione tecnologica e sviluppo di nuove attività imprenditoriali, lanciano il primo percorso di formazione per Football Data Analyst. Il corso si svolgerà a Chiavari tra il 7 e il 9 ottobre e tra l'11 e il 14 di novembre. Previsto anche il workshop Football Data Analysis il 18 di settembre nella sede di YLab in Via Davide Gagliardo a Chiavari. L'idea di un corso di formazione in Football Data Analysis nasce dall'opportunità di fornire ai club di calcio professionistici italiani le nozioni e gli strumenti indispensabili per gestire l'enorme quantità di dati generati dalla rivoluzione digitale. L'obiettivo è quello di gettare le basi per la creazione e la formazione di una nuova figura professionale, il Football Data Analyst, in grado di estrarre valore dai dati, trasformando i Big Data in Smart Data, ovvero dati utili alla strategia e alle attività dell'area tecnico-tattica della squadra. Ora la rassegna stampa, poi gli ultimi aggiornamenti. Avvenire titola Movimento 5 Stelle PD, trattativa aperta, Mattarella chiede un accordo forte ai tempi brevi, martedì nuove consultazioni, mercoledì l'incarico, oggi primo incontro per un governo giallo-rosso di tregua, ma Di Maio punta su 10 punti e 3 per Zingaretti. Intanto Salvini tenta l'ultima apertura agli ex alleati e frena sulle orne, ma riceve un no. Veniamo ad altre notizie, sempre dalla prima pagina di Avvenire, surrogata e bimbi rifiutati in Ucraina, coppia degli Stati Uniti scartano un disabile, altri 10 casi in tutto il mondo. Verso gli altari l'angelo dei disabili da Bergamo all'Africa e poi Brasile, Amazione in fiamme, Bolsonaro contro NG e dal meeting di Rimini Vittadini dice ora serve l'ossessione per il bene comune, Vittadini e Presidente della Fondazione per la Sussidiarietà. E andiamo a vedere la fotonotizia che arriva da Amatrice a tre anni dal devastante terremoto, paesi spopolati e non ricostruiti. Andiamo a vedere il dossier di Avvenire, senza casa e senza speranza, Amatrice resta nella polvere. Viaggio tra i centri distrutti dal terremoto del 2016, era il 24 di agosto, tra le macerie rimaste a terra e la rabbia della gente. Siamo stati dimenticati da tre governi, i turisti passano e se ne vanno. Siamo su secolo XIX, via la trattativa PD Movimento 5 Stelle, Mattarella, Pungole e Partiti, martedì consultazioni bis, l'analisi di Giovanni Sattabucci, il negoziato a Singhozzo nel Val delle Incognite, il totogoverno Giovannini in pole position ma resta l'ipotesi di una donna premier. E ancora l'intervista all'ex ministro del PD Pinotti, giusto provarci, 5 Stelle più vicini a noi che alla Lega. E ancora sulla questione della gronda interviene l'Aspi, gronda, il MIT sbaglia, Toninelli niente favori, dopo la bocciatura dell'analisi costi e benefici. Andiamo invece adesso a una notizia sportiva, il ritorno a casa di Vialli a settembre è l'ultima firma per l'acquisto della Sampdoria. Nelle pagine del Levante, i tre ex alberghetti di Via Gramsci ora diventano le palazzine di Rapallo, giugge a costruzione che si è aggiudicata l'aria, in settembre partono i lavori per realizzare le residenze Bel Soggiorno, Royal e l'Hotel Modern. Sono tre le palazzine Liberty, 3600 metri quadri la superficie complessiva. Il progetto prevede 19 camere nella parte alberghiera, 19 posti auto pertinenziali, 20 appartamenti residenziali e 20 posti auto pertinenziali. Ancora dal secolo XIX, Walzer nelle scuole della Riviera, molti dei dirigenti provengono da fuori zona, gioca in casa invece Donatella Arena che da Rapallo va a Sestri Levante e intanto il preside Francesco Codebo, dirigente scolastico di Lavagna va in pensione, lo storico dirigente finisce il 30 agosto. Per le altre notizie da Giacomo Rizzi. Grazie Emanuele, un saluto a chi ci segue da casa. Due nuovi blocchi per evitare che veicoli penetrino ad alta velocità in zone pedonali sono stati posizionati questa mattina sul Longomare di Chiavari in zona Piazza Milano. Due blocchi di circa una tonnellata come quelli già presenti all'entrata di Via Marti della Liberazione, in lato Piazza Matteotti. Il Comune di Chiavari ha risposto all'acquisto di circa una sessantina di queste strutture che stanno venendo posizionate gradualmente nelle entrate delle aree pedonali cittadine. Il fine non è solamente quello antiterroristico ma anche per evitare emissioni accidentali di persone distratti alla guida o che perdono il controllo del mezzo. L'accesso alle aree non è completamente interdietro agli automezzi. La collocazione è effettuata in posizioni strategiche che scongiurano il rischio di entrate ad alta velocità ma consentono ugualmente il passaggio dei mezzi sanitari o di quelli dotati di particolari permessi. Dalla redazione è tutto, la linea può tornare allo studio. Grazie, un appuntamento per questa sera. Il coro dialettale, i ragazzi dei frati invita ad una serata dedicata a canti, poesie ed altro ancora tutto rigorosamente in dialetto. Un po' dei sestri, questo è il titolo della serata, avrà inizio alle 21 ai Bagni Liguria. Terminiamo così questo appuntamento con Tigugliocci, il prossimo andrà in onda come sempre alle 19.15. Trovate tutte le notizie aggiornate sul nostro sito teleradiopace.com e al canale 187 Telepace News. Grazie per averci seguito e buon pomeriggio a tutti. Grazie.